ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova build battle oggi siamo qui insieme a metano 007 che come ben sapete è un pro nelle build battle e quindi sicuramente vinceremo perché la faremo in team e quindi ragazzi iniziamo subito ok mancano pochi secondi partiamo dai metano è dobbiamo vincere una cesta con la cesta del tesoro la cesta che la casa no c'è stato casa del tesoro la traduzione come la facciamo come la facciamo la cassa del tesoro a facciamo tipo cosa dei pirati esatto quello dei pirati ok quindi ho fatto tipo in legno in legno e poi mettiamo del dell'oro per fare il contorno tipo io la farei così esatto vediamo un po deve essere un po' rotonda anche tipo con tutta la forma giusta esatto paro anche gli aggeggini eccoli qua la facciamo aperta quanto vuoi fare grosso e vediamo io farei non troppo tipo un angolare abbiamo sei minuti è così se è troppo grande vediamo di qua e l'allunghiamo così si va bene va bene adesso ce la faccio che piatto sarebbe aspetta è il lato è il lato il lato quindi si faccia così va bene quindi se io vado avanti di qua ti faccio l'altro lato esatto sì esatto quanto si fa lungo e un po deve essere lunga e guarda un attimo mi sembra quadrata così deve essere un forziere quindi dobbiamo farlo quindi questa qui la mia è la parte lunga questa qua esatto esatto così va bene adesso bisogna copiare di là forse troppo io direi vabbè qua così vediamo sì perfetta perfetto ok io ti aiuto a fare questo ah no però la teniamo aperta la facciamo aperta che si vede dentro sì sì ovviamente la fatta aperta così è più bella quindi faccio la cosa tipo così che si vede che è aperta come se fosse aperta sì 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 assolutamente aperta però forse così la stai facendo un po' chiusa o sbaglio però c'è nel senso che si sta mezza pè no oddio non so dipende da di come la vuoi fare ce l'hai te l'idea così si vede boh non lo so cioè ci sto provando boh così non so se è bella come dice io intanto faccio un minimo di contorno cioè ora non fare caso a quello che sto facendo io per vedere se tu no ok si facciamo un po' più aperta va poi deve essere qua così vabbè no secondo me viene abbastanza bene troppo aperta così così dai no no a voglia va bene va bene sai cosa sarebbe tipo fighissimo da fare tipo anche col pezzo di sopra bombato però secondo me è tipo impossibile e l'ho fatto un po' rotondo non so così no vabbè sì 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 assolutamente va bene però a parte nessuno fa queste cose io poi farei iron qua metterei sai che i forzieri sono rinforzati no quindi qua nell'angolo farei l'iron così come se fosse l'angolo rinforzato ah tipo tutto così lo vuoi fare e qua in mezzo farei il rinforzo così io intanto sto facendo il contorno qua spero di far bene allora facciamo così il contorno tu riempi eh perché ci vuole un casino a riempire sta roba ti lo riempi di lì vabbè ci abbiamo 4 minuti oddio un po' di tempo è passato ma a fine niente di che qua c'è il forzieri guarda questo qui ah anche l'angolo anche qua ci vuole ok è l'angolo rinforzato perfetto bisogna se qualcuno ha tipo disegnato le schifezze pure qua ma che ne so io non è difficile vabbè penso di sì devocivorio mettere allora i mini blocchi al bordo ok nel senso che fa tipo il stile colorato le borche le borche le borche tipo le borche che tengono insieme la cassa no aspetta guarda cosa ho io in mano questo qua purtroppo non te lo posso passare e il mini blocco ok fallo tu e secondo me ci sta benissimo ok aspetta che ok così ti sto aiutando a mettere i blocchi per chiudere la cassa facciamogli anche un fondo eh sì ma manca ancora poco tempo sì e il contenuto dobbiamo fare anche no vabbè il contenuto basta mettere in cima dei blocchi a caso tipo dorati o argentati o di pezzettine così dobloni dobloni che so bisogna fare la chiave dove ah il tappo il tappo devi fare ok io magari penso al dentro magari ci metto anche un po' di spugne oh tre minuti eh tieni dici tipo se faccio un pochettino così un po' di spugne a casa ma come le spugne? usa i diamanti le cose sì sì vabbè ah i diamanti i lucky block io vedo adesso vabbè sì ci sta sono preziosi allora non ho tolto la testa metto anche l'iron oddio e del gold sì sì va bene tutto fidati per non far rovinare le cose tipo non lo so va bene allora fantastico le spugne fatte quei lucky block sono la cosa vincente che gli altri non vedranno assolutamente e quella cosa lì magari qualcuno ne rimasto la texta dicono oh ma guarda quello lì e invece no fate i lucky no non è vero allora io ci sto provando più o meno ma vi dirò non so cosa posso uscire da questa roba intanto mi faccio uno strato così devo fare assolutamente la porta cioè scusa la chiave dove si mette si chiude davanti due minuti sì dai 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 poi ce la facciamo ce la facciamo ok così ci buttiamo un po' di questo a casa ok così aperta adesso qua in mezzo vi metterei in mezzo che non sarà mai in mezzo sicuramente dell'iron così che sembra il chiavistello no che si chiude e qua facciamo invece la toppa l'importante è che non fai porcate poi va tutto bene ops aspetta che qui ci metto i blocchi di diamante così almeno sembra più scicheroso ok adesso facciamo il contorno vediamo come viene così devo abbondare un po' con l'oro io perché qua sennò veramente sembriamo poveri ma metti sì anche gli smeraldi secondo me dici anche gli smeraldi eh sì eh eh beh in effetti sì ci sta quanto manco un minuto beh oddio ce la facciamo ce la facciamo sì sì dai non è male metti gli smeraldi a manetta ora tipo lo sto prendendo così io metto la redstone che fa da rubino no sì 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 ci sta no questa è la redstone no dopo la redstone non esagerare con i blocchi mettiamoli in modo perlomeno decente ogni tanto anche accopite quell'altro che stanno così nell'angolino ci sono c'è qualche qualche cosa che si può mettere dentro tipo qualche particella sai le particelline quelle un pochettino luminose vorrebbero mettere però non saprei non saprei aspetta guarda un attimo qua io li sto cazzo ma questo non mi piace comunque questa cosa qua ho fatto il rinforzato di lama non mi piace aspetta non c'è tempo però ora guardo comunque allora la particella mancano 15 secondi dovremmo chiudere così no non è bruttissima però eh oh oh questo non è centrato ok perfetto perfetto ok cosa hai fatto ho centrato boh non lo so no non l'hai centrato va bene fa niente vabbè vabbè sì piccolina però io ho valuto tutto come base al nostro questo li voto poop perché sì è carino ma era peggio del nostro ok io ho votato ok questa l'ha chiusa però cos'è cos'è una casa ha fatto cos'è questa poop no ha fatto la cassa infatti ha fatto la chiave come noi però l'ha fatta chiusa chiusa a mio parere è troppo facile esatto anche questo cos'è no poop poop e poi non somiglia nemmeno a una cassa questo è vero ha fatto l'interno però eh no non c'era nulla praticamente questo beh la decorazione è carina però sì sì no si vede che è preziosa sì è un ok ci sta dai sì bah diamogli l'ok via eh questo eh l'ha fatta quadrata come minecraft quindi sì però comunque è un ok perché non è sì dai ok ci sta è giusta l'ha azzeccato di essere impegnato sì 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 questo questi ah ma cosa ah è questo ah cos'è super poop ecco qui per forza questo ha fatto ha fatto una cassa con i materiali pezzosi intorno ma dov'è ma vabbè la tristezza questa no non mi piace l'apertura noi l'abbiamo fatta ma l'impegno proprio mmm poop perché non è non è tanto bella e poi guarda il look il look il look l'ha fatto tipo con la roba che strariva tipo bello questo è bello questo è bello questo good secondo me questo vince però se non mi ha messo un po' troppo d'oro dentro comunque ha fatto un buon lavoro anzi un ottimo lavoro questo vabbè sì tipo le altre dai ok ci sta no l'ha fatto malissimo ma guardalo bene no forse è vero è troppo piena di roba guardalo da davanti non si chiuderà mai sta cassa ecco la eccola eh guarda la nostra ci sta la nostra ci sta ma l'hai visto guarda non è centrato e va bene fa niente sì ma non capisco come sia possibile una roba non importa va bene lo stesso va benissimo è bellissimo dai questa questo sì beh è meglio di molte altre ma comunque non è nulla rispetto bellini gli effetti questi li bisognava mettere ma valli a trovare nei fatti però ci sta siamo terzi terzi dai buono buono non è andata male e vabbè dai non era bruttissimo guarda aspetta aspetta abbiamo fatto 50 punti che è uguale al secondo quindi in teoria siamo anche al secondo pari merito diciamo pari merito ok ragazzi non è andata male diciamo questa build battle se fossimo stati meno magnanimi con gli altri giocatori forse avremmo anche vinto in ogni caso spero che il video vi sia piaciuto come sempre in descrizione trovate il canale di metano e noi ci vediamo al prossimo minigame ciao ciao a tutti